Oggi ci viene a trovare una nostra amica che non è mai stata a Londra Vediamo dopo un weekend con noi che cosa ne penserà e se le piacerà questa città Andiamo a prenderla Ovviamente siamo già in ritardo Poi dobbiamo trovare Flavia in mezzo a tutta sta gente Sta lì Ce l'abbiamo fatta Senti lo sai che sarai la protagonista di questo video? No Prima volta a Londra Allora faremo tutto il weekend da turisti Si sta alzando il Tower Bridge Cioè vabbè male Stiamo facendo la Queen's Walk Che eccole Le regine di Londra Qualcuno dovrà sostituirla Prima chicca storica che i turisti non conoscono Vedi lì quella è la Tower of London La prigione di un tempo E praticamente quando i pirati facevano i briconcelli li mettevano attaccati a quei pali E aspettavano l'alta marea E niente E li ammazzavano così Scorcio per foto allo scelta Ho preso l'onere di guidare le ragazze Le Queens E le portiamo a vedere il Tower Bridge da vicino Poi le porto a mangiare il mercato metropolitano Se volete una foto con un po' di meno gente Venite da quest'altro lato Questa è una delle vie più carine di Londra Si chiama Bermond Sea Street Cos'è? Ristorante spagnolo delizioso Non c'è mai costo però E non si può prenotare Ho portato le ragazze al mercato metropolitano Adesso tocca scegliere che mangiare Andando a fare le cose più turistiche del mondo London Eye Big Ben E poi? Westminster Prima volta in metro per Slavia Voto alla London Eye 8 Effettivamente fa impressione Da sopra deve essere molto carino Solo che costa Più o meno 40 pound a testa per salire Quindi non so se proprio vale la pena Ovviamente non c'è niente di più turistico Di combo Big Ben e London Eye Allora praticamente voi non saprete che il Big Ben In realtà non è questa Questo si chiama Hawk Tower Torre dell'orologio Il Big Ben è solo la parte delle campane Nooo Shocking Shocking E niente Buckingham Palace Regà non ci venite Non ci venite La regina Una volta nella vita Cancello d'oro Angelo d'oro Carino Siamo tornati a casa a fare un power nap Però adesso siamo tornati carichi Carichissimi dopo questo power nap E andiamo a fare un'altra tripletta Covent Garden Piccadilly Circus Sinatown 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 Lei ha detta Lei ha detta Sinatown Io non ho dormito tanto Ero un babbo Ha dormito troppo poco Non poteva mancare un po' di viaggiarelli in inglese Adesso giriamo per cercare Attrazione turistica numero 8 del giorno 9, 10 Vabbè diciamo no 8 Binario 9 e 3 quarti Si vola Hogwarts ragazzi E siccome è magico Non è nemmeno Non è facile trovarlo No per niente Andiamo Impressioni Beh ragazzi Non c'è volo Alla magia Piccadilly amore voto Quanto ti piace? 7 Prossima tappa Carnaby Street Dunque questa cosa è troppo tipica degli italiani Che camminano in mezzo alla strada Anzi forse dei romani Ci stanno 8 marciapiedi Noi camminiamo in mezzo alla strada Ennesima cosa turistica del giorno Carnaby Street Voto? 10 10 10 Il voto lo mettiamo tra due minuti Qui fanno i pesciolini Pesciolini Aperitivo Va comprato Vai Dai No la pasta Buoni? Come anche il mezzo? Vieni da quel mezzo Vieni da quel mezzo Vieni do Il pesciolino più Chinatown Un 9 9 Se venite a Chinatown Non andate dalla bakery A prendervi il pesciolino Pesciolino con la crema Non siete nessuno Non siete nessuno Unesima sfida della giornata Abbiamo deciso di andare da Dishoom A mangiare Il posto forse tra i più popolari di Londra Veniamo All'altro ci hanno detto un'ora di fila Al momento della verità Sta arrivando il nostro ragazzo Hi Hi It's ok For free people Please Just ask You can tell you And we are more Ah di dove? Roma 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 Ma è vero Si Non sono mai stato a Roma Non sono mai stato a Roma Cioè io sono nato in Italia Ho fatto vent'anni E non sono mai stato a Roma Mai stato a Roma Allora abbiamo beccato un tizio che lavora qua italiano 25 minuti di chilo Bam Bam Siamo dentro Siamo dentro già Già dentro Già dentro Già proiettato And a house black dust And free plain nut Free plain nut Cheers Prevoto 10 Prevoto 10 Post voto Post voto Vediamo se confermiamo o ribaltiamo il risultato Flavia Ah tra poco Anche Flavia a breve avrà un canale su YouTube perché è veramente brava come lo chiamiamo The Flavia Way Voilà 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 Black Dalla della casa Gnammi gnammi Ragazzi felici Ma Il posto per il dolce c'è sempre Ma io non c'è Vai Merito Ristoratrici Quanto abbiamo speso? 100 100 80 80 80 Dietro 98 Ma è fortissima Flavia 1 10 Le ha vinte tutte le sfide dei giorni 10 10 Voto 10 Voto 10 Questa giornata fantastica sta giungendo al termine Siamo cotti Siamo cotti Siamo cotti Cosa ci vuoi raccontare di questa giornata? Questa giornata è bellissima Benissima Non c'è tanti voti positivi C'è tante cose turistiche viste Tante cose da E domani è Ci vediamo a tutti Mirate M잘 2 E O Grazie a tutti.